ORE UNDICI Rinvenuto il corpo di un uomo dell'apparente età di anni 30. La morte, secondo il medico legale, risale a circa due ore fa. Ed è avvenuta mediante emorragia interna provocata da un colpo di arma da fuoco, sparato a breve distanza, con perforazione dell'addome. Il proiettile non è stato ritrovato. Sono in corso le indagini. Il proiettile non è stato ritrovato. 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 Capossi morti non è stato ritrovato. Il proiettile non è stato ritrovato. Grazie.